La finanza in soldoni è un podcast di Massimo Famulano Con il riconoscimento delle repubbliche autoproclamate del Donbass, la Russia ha lanciato una sfida che Stati Uniti e Unione Europea raccoglieranno introducendo una serie di sanzioni contro quella che il Presidente Biden ha definito come una vera e propria invasione ai danni dell'Ucraina. Diversi analisti e commentatori hanno iniziato a ipotizzare le possibili conseguenze per l'economia mondiale di questa escalation nelle tensioni geopolitiche legate alle mire spazionistiche di Vladimir Putin. Per inquadrare correttamente la prospettiva è opportuno valutare le dimensioni dell'economia russa, il suo peso sul commercio internazionale e le possibili reazioni delle autorità di politica economica per mitigare gli effetti della crisi. L'economia mondiale aveva registrato già diverse interruzioni nelle catene distributive a causa delle restrizioni legate alla pandemia e dunque la nuova crisi geopolitica interviene in un contesto dove diversi collegamenti internazionali stavano gradualmente ritornando a livello pre-Covid. Anche prima che il creminino disponesse le proprie tuppe in sostegno dei separatisti dell'Ucraina, la prospettiva di un conflitto aveva già avuto degli effetti. La promessa di sanzioni punitive in cambio da parte del Presidente Biden e il potenziale di ritorsione russa aveva già spinto a ribasto le quotazioni nei mercati azionari e fatto salire i prezzi del gas. Anche nel peggiore dei scenari possibili va tuttavia considerato che l'impatto non sarà come quello visto alla diffusione del coronavirus nel 2020. La Russia è sicuramente un grande paese con 146 milioni di abitanti e un enorme arsenale nucleare, nonché un fornitore chiave di petrolio, grasse e materie prime che fanno funzionare le fabbriche di tutto il mondo. Ma a differenza della Cina, che è una potenza manifatturiera intimamente connessa con intricate catene di approvvigionamento, si tratta di un attore minore nell'economia globale. L'Italia con la sua popolazione è inferiore alla metà e meno risorse naturali, ha un'economia che è grande il doppio. La Polonia esporta più bene nell'Unione Europea che la Russia. Secondo Jason Furman, economista dell'Università di Harvard e consigliere di Obama, la Russia è incredibilmente poco importante nell'economia globale, tranne che per il petrolio e il gas, fondamentalmente come una grande stazione di servizio. Naturalmente una stazione di servizio chiusa può essere paralizzante per quelli che dipendono da essa. Il risultato è che qualsiasi danno economico sarà distribuito in modo diseguale, intenso per alcuni paesi e industrie e inosservato per altri. L'Europa riceve quasi il 40% del suo gas naturale, il 25% del suo petrolio dalla Russia e probabilmente sarà colpita da picchi nelle bollette per il riscaldamento del gas che sono già molto elevate. Le serve di gas naturale sono a meno di un terzo della capacità, con settimane di freddo ancora in vista e i leader europei hanno già accusato il presidente russo di ridurre le forniture per ottenere un vantaggio politico. In particolare l'Italia è il settimo posto tra i paesi che importano petrolio dalla Russia e al primo per importazione di gas naturale. Questo vuol dire che il nostro paese potrebbe esserci ulteriori rincari nell'energia che è già una componente che ha subito gli aumenti maggiori. Ci sono poi prezzi di genere alimentari che sono saliti all'orvelo più alto in un decennio secondo le rivelazioni delle Nazioni Unite in gran parte a causa delle interruzioni nelle catene distributive legate alla pandemia. La Russia è il più grande fornitore di grano al mondo e insieme all'Ucraina rappresenta quasi un quarto del totale delle esportazioni globali. Per alcuni paesi la dipendenza è molto elevata. Egitto e Turchia importano il 70% del graso dai paesi oggi in conflitto. Le conseguenze per le famiglie in termini di maggiori prezzi di attività economica dipenderà dall'evoluzione e dalla durata di un eventuale conflitto e risultano difficili da prevedere in anticipo anche perché un ruolo importante sarà svolto dalla risposta delle autorità di politica economica divise tra la necessità di arginare la crescita dei prezzi e la opportunità politica di intervenire per mitigare gli effetti inattesi di uno shock esogeno. Gregory Drago, capo economista di EY Pantheon, ha richiarato che c'è un'inflazione già molto elevata, tensioni nelle catene di approvvigionamento e incertezza su cosa faranno le banche centrali e su quanto siano insistenti gli aumenti dei prezzi. Gli stress aggiuntivi, per quanto relativamente piccoli se presi singolarmente, si stanno accumulando sull'economia che si stanno ancora riprendendo dai colpi economici infatti dalla pandemia. Inoltre va considerato che incertezza politica e volatilità pesano sempre sull'attività economica. Ciò significa che un'invasione potrebbe avere un doppio effetto, rallentare l'attività economica e aumentare i prezzi. Negli Stati Uniti la Federal Reserve sta già affrontando l'inflazione più alta degli ultimi 40 anni, al 7,5% in gennaio, e si prevede che inizierà a aumentare i tassi di interesse nel mese prossimo. L'aumento dei prezzi dell'energia provocato da un conflitto in Europa potrebbe essere transitorio, ma potrebbe anche alimentare le preoccupazioni per una spirale sala di prezzi, di cui abbiamo parlato nei podcast precedenti. Per riepilogare, i fattori da tenere presente e l'impatto delle recenti tensioni politiche sull'economia mondiale sono da un lato la limitata dimensione dell'economia russa e il fatto che le interruzioni delle forniture riguarderanno misura diseguale a un set limitato dei paesi, tra i quali però è presente l'Italia, sia per il gas che per il petrolio. Dall'alto che il contesto nel quale questo nuovo shock andrà a produrre i propri effetti è già caratterizzato da rilevanti tensioni inflazionistiche e dalla prospettiva di restrizioni monetarie. Avete ascoltato? La finanza in soldoni, un progetto multicanale che include anche un libro con lo stesso titolo disponibile su Amazon, una serie di pillole video sul canale YouTube di Massimo Famularo e un blog. Trovate maggiori informazioni sul sito massimofamularo.com